«Signori, devo essere contento, devo essere scontento, signori il gioco è migliorato, è peggiorato, io vandrò controcorrente. Abbiamo fatto un pareggio che uno dice «aspetta, però ha fatto un pareggio contro questa Inter, però io devo essere onesto, a me quel pareggio ci può stare. Onestamente io ho visto un brutto Napoli, non sul punto di vista dell'impegno, ho visto una squadra sconclusionata, incapace di impostare un'azione, ogni volta che doveva iniziare questa palla dal fondo si trovava in difficoltà, perdeva e abbiamo dato subito delle occasioni all'Inter, eccetera. Non ha fatto un tiro a porto, tiri a porto si contano sulla punta di non so cosa. Uno, un tiro a porto nel primo tempo su quell'azione, ecco quel passaggio di Politano a Traoreghetto. Secondo tempo forse c'è stato qualcosa in più, soprattutto quando è entrato Simeone e anche Mario Rui, insomma si è visto qualcosa in più, l'area di rigore è andata un po' più pesante, insomma c'è stato quel colpo di Simeone e anche poi sul calcio d'angolo, comunque la presenza di un giocatore d'aria crea anche un disagio in generale, quindi ci voleva e ci voleva prima, caro calzone. Va bene, comunque abbiamo preso questo, abbiamo fatto questo gol. Autore del gol, Juan Jesus, autore di una partita straordinaria. Juan Jesus, proprio a prescindere dal gol, ho visto una partita straordinaria di Juan Jesus, che poi sembra quasi logico che lui segnasse, perché poi a un certo punto, dopo una partita così, ma Juan Jesus ha fatto belle partite, tutte le partite che l'ha fatte sono state sempre tra i migliori. Chiaramente c'è una massa di ignoranti che hanno offeso un poverino per quel gol fatto, non capite? Niente! Se non ci fosse Juan Jesus, questa difesa renderebbe acqua da tutte le parti. Juan Jesus 10, questa è la mia pagella. Se dovessi dare le pagelle è meglio che Stongetit, perché se dovessi dare le pagelle, veramente cosa? Quello che voglio dire, comunque io non ce la faccio vedere più un gioco così, un gioco inutile, perché se tu giochi con il calzone, tu giochi con il 4-3-3, tu vuoi giocare un gioco d'attacco, il 4-3-3 ha un solo senso, devi avere la pressione, devi pressare, devi rubare palle e devi aggredire. Se no è un giocare così e questo abbiamo visto per tre quarti di partita, abbiamo visto. C'è un Napoli che tra l'altro non riusciva neanche a fare una mezz'azione, perché perdeva la palla ogni due passaggi praticamente. Anche sa irritante, anche sa proprio io non ce la faccio, anche se forse a un certo punto ha incominciato anche a giocare discretamente, ha dato un po' di quantità. Signori, però io non posso vedere a uno che ogni volta che prende la palla, gliela dà di prima o non di prima, o si mette a fare i dribbini, oppure fa dei passaggi strani di pallonetti, sono sempre persi. Signori, questo non chissà perde sempre palle. Ma insomma, signori, cosa? Quindi, che cosa vogliamo dire? Ho visto solo in attacco soltanto un politano, che era l'unico che creava. Ma d'altro canto quella fascia, la fascia destra è l'unica che fa qualcosa, anche con un Di Lorenzo, anche con un Di Lorenzo che indubbiamente non è quello di prima, sarà un'annata particolare. Però, ecco, comunque, con le loro combinazioni sono riusciti a creare delle cose, sia nel primo tempo che nel secondo tempo, perché se aspettiamo la fascia sinistra, non abbiamo speranza. Traoré è stato... Traoré si è mosso cosa? Ha fatto forse una partita? Insomma, non del tutto sbagliato, forse una delle migliori, non lo so. Però lo vedo piccolino, lo vedo così, lo vedo che non... Ci manca proprio quel qualcosa, non lo so se lo riscatteranno, vedremo come andrà. Lobotica chiaramente si trova a fare una specie di faticaccia. Vedete Lobotica proprio stremato, che va avanti, indietro, eccetera, perché chiaramente è come uno fosse abituato al gioco facile, perché una volta era abituato a che gioco? Al gioco di... Pigliava la palla, pic, poc, pic, poc, pic, poc, isolato e invece fa una faticaccia. Chianti si trova. Il gioco non c'è. Il primo tempo non ho visto nulla che si potesse chiamare gioco, ma cioè, il gioco non esiste. Allora, io voglio capire, io perché, insomma, sono rimasto deluso. Chi ce l'aveva pigliato in un pareggio? E forse con poche fortuna, non lo so. Cioè, io ho visto un Napoli, onestamente, che non sa cosa deve fare quando c'è la palla. Io questa cosa non la sopporto. E poi veramente ci sono dei giocatori che spero l'anno prossimo di non vedere più. Comunque, dai, mettiamo con una prova di orgoglio, perché l'orgoglio c'è, c'è stato. Ecco, io non voglio dire che i ragazzi... Solo da vedere un Napoli sempre lento. Cioè, lento, movimenti lenti così, eccetera. Cosa? Sempre così, sempre, sempre... Ma non lo so, signore, ma guardate che è stato un po' così. Poi dal nulla è uscito questo calcio d'angolo. Tra l'altro anche Fortunati, nel momento in cui, mi pare, sia stato il difensore, forse proprio d'Armian, eccetera, così. Pensate, ma è uscito questo calcio d'angolo? E giustamente è stato, vedete, John Jesus, il migliore in campo, che doveva essere premiato, e lo è stato, con il gol. Allora uno è contento, dice, vabbè, almeno abbiamo preso sto pareggio. Però io, siccome guardo sempre al gioco, alla potenzialità, guardo anche al risultato, anzi, guardo prima al risultato. Perché se avesse vinto, io, anche con questa partita, mentre che all'ultimo minuto facevano un calcio d'angolo, un altro rimpallo, una cosa, io ero contentissimo, perché io so che quei tre punti sarebbero stati vitali per ottenere un qualcosa. Però, sinceramente, io a vedere questa squadra, non riesco a vedere che possa raggiungere squadre che oramai stanno a sette, otto punti. Cioè, capisci? E allora, soprattutto, non riesco a vedere l'anno prossimo. L'anno prossimo vedo una squadra che squadra è. Onestamente, eppure calzoni, a me è mamma deluso calzoni. Ripeto, i primi, all'inizio, mi piacque, mi piacque il suo modo di avere quasi delle idee chiare, senza guardare in faccia a nessuno, levava, faceva, invece c'è sempre così. Lo stesso, come si chiama, incertezze pure quelle, cioè, cose. Simeone, l'hai messo un po' tardi, a un certo punto. Osimena, vabbè, evidentemente è fatto bene. Avete fatto bene a non farlo entrare, perché a quello punto non valeva la pena che puoi perderlo magari per tutto il resto del campionato. Però, voglio dire, cioè, non, 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 ecco. Ingonce, a due minuti alla fine, al novantunesimo, bella e buona fatta la sì, ingonce, ma perché? Ma perché? Ma perché? Almeno si sparagnava nei fadocci che si chiama. Ma perché? 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 Perché li fai entrare? E se, e ammettendo pure che facevano un gol, uno dopo diceva, allora perché non l'hai miso prima? Cioè, ma che significa mettere in goncio? Ingoncio non l'hanno mai visto più. Ma ha fatto che lui, vabbè, è stato, è stato, è stato, è stato infortunato, lo so. Però dico, ma no, ma fai ridere. Lo fanno molti allenatori, non è solo lui. Ma questo mi pare proprio, al novantunesimo, mettere in goncio l'istro. Non ci siamo, non ci siamo. Mai deluso, mai deluso calzona, mai deluso. Basta io. Comunque diciamo, allora, tornando così, l'unica cosa possiamo dire, andiamo alla sosta con un Parigi, in casa dell'Inter. Io ho visto un brutto Napoli, che non mi dà speranze per il futuro. Però, prendiamoci il suo Parigi e vediamo. A presto. Grazie.